2012 l'anno del sorpasso. Battendo gli Stati Uniti in prima posizione fino al 2011, la Cina è diventata il più grande mercato di personal computer del mondo, 69 milioni di unità vendute. Nessuna sorpresa, considerando che la tigre asiatica detiene già anche il primato delle connessioni ad internet, 500 milioni di utenti. A stupire però il dettaglio, se nella maggior parte del mondo i più agili PC portatili hanno superato i fissi, in Cina siamo al 50 e 50. Nelle aree rurali, dove il governo sta facendo pesanti investimenti in infrastruttura, continuano a preferire i vecchi desktop.